qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti si va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione devono essere venuti da qui buona visione 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 Grazie. 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 Mi tornerà utile se cado. Grazie. Perfetto. Un modo per risalire. Grazie. 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 Ecco, la qui. Spero tu riesca a decifrarla. Diamine. Un'altra codifica. Questa doveva essere leggibile. Utilizzano un codice per comunicare. Senza di esso, non abbiamo nulla. A volte, la logica non è l'unico modo per vincere la guerra. Andiamo. Dicevi che abbiamo degli alleati in città. Portami da loro. Seguimi. un porto. …dassim delle pietre e delle proprietà del Rione. …in tempi inferti… …e a noi. 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 …e a me. …e a noi. …e a noi. …e a noi. di recente per evitare le guardie abbiamo preso a spostarci attraverso le gallerie ma molte vie di ingresso in città sono inservibili tramite esse giungiamo rapidamente a destinazione senza incontrare resistenza grazie